Andiamo un attimo nel passato, se tu potessi ricordarti la prima volta che hai avuto questa emozione negativa, dov'è questa emozione negativa di quello che vuoi eliminare? Può essere l'emozione che tu vuoi eliminare anche a parte di un compito. Vai, la mano va tranquillamente, fa andare dove è l'emozione. Qua? Qui? Ah, qui. E quante età? Quante età avevi la prima volta che hai avuto questa emozione? Che l'agio ti ho avuto la prima volta che ho avuto l'emozione? Che età avevi? Sono tre e quattro anni. Tre e quattro anni. Cosa ti ricordi? Ero con i vicini di casa, amici, mi facciano prendere paura. Ah, mi facciano provare a vedere. Sì, sì. Ok, fa un'eseranza in stanza e avevo venuto a vedere. Sì, sì. Andiamo avanti, fai due passi, sarà la prima volta che hai avuto questa emozione. Uno, vai indietro. Guarda, guarda, guarda. Uno, due. Ok, vai indietro. Una volta. Ma posso? Eccoci sei, ci sei. Adesso ci sei. Cosa vuol fare il tuo corpo? 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 Cosa vuol fare? Cosa vuol fare? Il tuo corpo? Che scrive per farti? Bene, cosa voglio fare? Che movimento vuol fare? Fallo, fallo. ancora, 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 ancora. ancora, 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 ancora ho 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 guarda lì guarda lì questa energia inspira inspira scarico tutta l'energia va nelle gambe 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 uova uova ha 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 uova 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 Grazie a tutti